Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Sono passati ormai 3 mesi da quando ho cambiato la dorso duro con l'MT09 Ma ancora fioccano i commenti sulle domande sul perché io abbia fatto questo Visto che ho ottenuto la dorso duro praticamente 3 mesi circa L'avevo presa come molti di voi sanno per sostituire l'ornet E molti appunto si domandano ancora oggi dopo 3 mesi Magari ci sono anche noi iscritti al canale Si domandano come mai io abbia cambiato la prima dorso duro Sulla dorso duro c'è comunque molto interesse da volte vostra Quindi io oltre a rispondere singolarmente ai commenti oppure ai direct su Instagram Ho deciso di dedicare un video in modo tale che forse si possa raggiungere un pubblico ancora superiore Allora io principalmente ho riscontrato 5 difetti più o meno grandi Comunque 5 difetti che mi hanno spinto a cambiarla praticamente subito C'è da dire che comunque questi 5 difetti Alcuni sono dei difetti obiettivi Altri sono dei difetti che magari ho riscontrato io E che qualcun altro potrebbe non riscontrare Io sono sempre l'opinione che non esiste la moto perfetta Ma esiste la moto consona al proprio stile di guida o ai propri gusti Al primo posto io metterei il peso Ora so che può sembrare un po' stupido mettere il peso di una moto al primo posto come difetto Però dobbiamo inquadrare anche che cos'è l'apriglia dorso duro L'apriglia dorso duro è un motarde Anche se possiamo dire che è un maxi motarde Perché è comunque un 750 bicilindrico di cilindrata E addirittura adesso è diventato anche 900 di cilindrata Però io mi sto riferendo alla 750 Quella che ho posseduto io E comunque è un maxi motarde Quindi al primo posto ci dovrebbe essere l'agilità Ma il peso non è per niente ridotto Infatti pesa sui 185 kg a secco Che in ordine di marcia diventano 200 Considerando che la moto è anche molto alta È veramente poco agile a basse velocità Oppure nel traffico Oppure pensiamo anche a quelle manovre Diciamo che sono caratteristiche un po' dei motarde Quindi che ne so Con le impennate, gli stoppi Fare il 180 gradi per invertire la marcia Queste sono stupidaggini Però sono cose che non si possono fare con l'apriglia dorso duro O comunque che si fanno con difficoltà Ma tralasciando appunto queste cose che ripeto Sono stupidaggini Anche in marcia Un po' ne risente di questo Troppo secondo me peso Infatti nel misto stretto È vero che ha una buona agilità Si mangia le curve Ha un'agilità superiore comunque rispetto a molte naked Però appunto rispetto alla mia 0.9 È meno agile Lo dico sia io sia altri che hanno provato la mia torsura E hanno provato la mia 0.9 È comunque meno agile rispetto ad altre naked Quindi uno da un motarde si aspetta Un'agilità superiore Anche se è un maximo d'arde Inoltre Questo peso Alla fine Non si dimostra neanche utile Per un fattore ad alte velocità Infatti In autostrada Praticamente sopra i 140 km orari Lo sterzo oscilla La soluzione per non farlo oscillare È indurire al massimo L'ammortizzatore posteriore E sgonfiare Più del dovuto La gomma anteriore E si riesce ad arrivare Sui 160 Senza farlo oscillare Secondo me Non va bene Perché se La torsura fosse stata Un motarde puro Allora va pure bene Perché il motarde va forte Nel misto stretto E non in autostrada O non in alte velocità Ma se è una moto Che è sacrificata Nel misto stretto Per il peso E per altre variabili Quanto meno Fino a 170 Non voglio dire di più Però Non dovrebbe oscillare il manubrio Per farvi un esempio Io con la mia MT-09 L'ho provata Di velocità massima Fino a 235 La moto non oscilla Ovviamente Se alleggerisce L'avantreno Ci mancherebbe Però non oscilla Come secondo grande difetto Io metterei i consumi Ma soprattutto L'autonomia Come consumi Come ho detto anche nei miei video Eravamo sui 12-13 km All'idro di media Che Per una moto Non è neanche esagerato Comunque Quando si va in moto Non si pensa A risparmiare sulla benzina La moto è uno sfizio Anzi è una passione Però finché Sono consumi alti Ma un'autonomia decente Potrebbe anche andare bene Ma l'autonomia di questa moto È veramente ridicola Il serbatore è 10 litri Di cui La riserva è più o meno 2 litri e mezzo 3 litri Quindi alla fine Prima che si accende la spia Ci sono circa 7 litri Consideriamo anche il fatto Che il pieno Non si può fare Perché lo sfiato Della benzina È messo veramente In basso Quindi Quando si fa il pieno Fino all'orlo Praticamente Mezzo litro Viene buttato fuori Dal tubo di sfiato Se vi fate due conti Facciamo 7 litri e mezzo Per 12 km Ma anche 10 Quando si tira L'autonomia diventa 80-90-100 km Prima che si accende la spia Ovviamente con la spia accesa Conviene fare subito benzina Perché non si sa Sì ok Rimarranno altri 20-25 km Ma comunque Un'autonomia totale Che va dai 120-150 km Proprio Prima di rimanere a piedi E qui Ripetiamo il discorso Che ho fatto prima Molti diranno È un motard Non ti puoi aspettare Una grande autonomia Sì Ma è un motard Con dei difetti Che lo rendono Un non motard Cioè il peso esagerato E l'agilità Non da motard Allo stesso tempo È una moto comoda Noi in due Con la mia ragazza Abbiamo fatto molti chilometri Ed è comoda come moto Ok la sella è un po' dura Ok si prende tanto vento Però rispetto a molte neve Ed è comoda Secondo me Come postura di guida Quindi è una moto Che comunque Uno la può utilizzare Per fare i passi di montagna Ma la può utilizzare Anche per qualche viaggetto breve Di 500-600 km In un weekend Che non sono tanti Però Fatevi il calcolo Io praticamente Sono andato Da Barcellona Che è la città dove vivo A Cefalu E Santa Flavia Che sono Più o meno Andate in ritorno Tutti i giretti che abbiamo fatto Siamo andati a mare Abbiamo visitato Bacheria E altri luoghi Abbiamo fatto 350 km Io ho fatto 4 volte il pieno Ditemi voi Se io mi devo fermare Ogni 90 km Cioè è veramente fastidiosa Questa cosa Era veramente fastidiosa Quindi non è un motardapuro Ma allo stesso tempo Non è una moto stradale Come autonomia Quindi ha L'autonomia di un motardapuro Ma c'è un benzinaio a Fondaghelli? C'è il benzinaio Però non lo so se è bene Ma com'è possibile Che sono senza benzina Dico Al terzo posto Questo forse è un difetto Più soggettivo Io metterei il motore Sbarra le prestazioni Il motore è un bicilindrico L750 E al libretto Di chiara 92 cavalli Che sono tantissimi Pensate L'orne teneva 96 Tutti sparati agli alti 92 Per un bicilindrico Sparato in basso Dovrebbe essere Una moto mostruosa Io Sin da subito L'ho sentito un po' Spompa Vi faccio vedere anche Una parte Della mia prima prova Che non vi ho mai mostrato Quando proprio L'ho provata Prima di acquistarla Dove appunto Dicevo che la sentivo Un po' spompa Io inizialmente pensavo Fosse per i rapporti Troppo lunghi E in effetti Comunque i rapporti Queste moto sono troppo lunghi No Così alzi Com'è? Bella Me l'aspettavo un po' Più Grintosa Grintosa? Un po' più grintosa S o S? S S Appunto Vi dicevo A 92 cavalli La moto Però poi Io non li sentivo Sinceramente Questi 92 cavalli Era molto aggressiva Ai bassi Ma Agli alti Secondo me Era molto spompa Vado a cercare Grafici Delle erogazioni Dei cavalli Della mia Aprilia Torso Duro E scopro Che facendo di testa Al banco La moto Come cavalli alla ruota Stenta a raggiungere Anche gli 80 cavalli E' normale Che le case Dichiarino Più cavalli Di quelli effettivi Lo fanno tutte le case Però capite bene Che se ne dichiari 92 Se sono 84 83 Va pure bene Ma se sono Meno di 80 Cioè io pago il bollo Per 92 cavalli E poi la moto Non raggiunge Neanche 80 cavalli Cioè A meno di 15 cavalli Dichiarati E questa cosa Secondo me E' veramente sbagliata E proprio qui Ci colleghiamo Al quarto difetto Le mappature La moto ha tre mappature R Che è quella Per la pioggia Rain T Che è quella Standard Touring Ed S Che è quella Sport Quella Rain Può anche andare bene Perché praticamente La moto è depotenzialata A circa 40 cavalli E quindi In caso di pioggia In caso di bruttissimo tempo Si mette la R Ed è praticamente Come se ci fosse Un traction control La moto sale lentissima Di giri Ed è dolcissima Si deve proprio Accelerare al massimo Per farla camminare Invece Per quanto riguarda La mappatura T La moto ha i cavalli A piena potenza Però la potenza È bassa E' molto molto tagliata Quindi Per un autorizzatore Si può anche andare bene Anche se è vero Che è un po' fastidioso Che la moto Non vada al massimo Per come deve andare Però Per esempio Per un autorizzatore Va pure bene Ma quando si fa Sui passi di montagna La T Incomincia a stare un po' stretta Perché è un po' più lenta A salire dei giri Un po' più dolce E si E si ha l'impressione Che appunto La moto non rende al meglio E quindi Si mette la mappatura S Mappatura S Che è scorbuticissima Ai bassi La mia Aveva tanto un off E adesso voi direte La mia moto aveva un off Perché aveva lo scarico aftermarket Si la mia moto aveva lo scarico aftermarket Ma non era decatalizzata Ma il rendimento dei gas di scarico Era simile all'originale Comunque gli scarichi erano Sono omologati Ora si Mappando sicuramente La moto migliorava Sia di potenza Sia di droghe Però è anche vero che Io per esempio la 0.9 Non sento il bisogno di mapparla Quindi Se Volete acquistare una torso duro Io consiglio comunque la mappatura Sempre restando in tema di mappature Io vorrei paragonare Queste tre mappature Secondo me senza senso Perché quando si ha la S Si ha quella sensazione di Moto scorbutico E quindi Ti viene voglia di mettere la T Quando si ha la T La moto sale poco di giri E ti viene voglia di mettere la S Si ha la sensazione di non aver mai La mappatura giusta Invece Paragoniamola alla MT-09 Che è anch'essa Ha tre mappature B Che è quella più Con meno cavalli È la più dolce Standard Che è quella standard E A Che è quella più aggressiva Praticamente con la mappatura B La moto è molto dolce Ed è l'ideale per i viaggi Anche se io viaggiando Ho utilizzato la mappatura standard Nell'ultimo viaggio che ho fatto Con la mia ragazza Abbiamo fatto 600 km E usciranno a breve Dei bellissimi video sul canale La mappatura standard È appunto A piena potenza Con Senza praticamente on off E secondo me Già cavalli da vendere La mappatura A Ha una risposta Molto più pronta Che il gas Ed è sempre a piena potenza È una mappatura Che io uso poco E nulla Perché È presente un po' di on off Io la utilizzo sempre In standard La metti 0.9 E mi trovo benissimo Però Se ci fate caso Le tre mappature Della 0.9 Secondo me hanno un senso Perché in un certo senso Vanno a modificare L'erogazione Non la potenza finale Quindi se vuoi Un'erogazione più dolce Metti la B Se vuoi un'erogazione normale Metti la standard Se vuoi un'erogazione Molto brusca Metti la A Però In tutte e tre La mappatura La moto va benissimo Per quanto riguarda In caso la pioggia La 0.9 È il traction control Quindi inserisci il traction control E la mette a livello 2 E la gomma posteriore Al quinto posto Metto Ciclistica Sbarra Stabilità Ora So che mi mangerete nei commenti Mi direte Tu sei veramente deficiente Hai la 0.9 Che di ciclistica Obiettivamente peggio Sulla carta Come scheda tecnica È peggio Ma Critichi E critichi La dorsoturo Che invece Ha una signora ciclistica La risposta è molto semplice A me della scheda tecnica Non frega niente Nei passi di montagna È vero La dorsoturo Non aveva limiti Anche considerando che Era Aveva una ciclistica Dimensionata Ottimamente al motore Cioè la moto aveva 80 cavalli E la ciclistica Ne poteva sopportare Secondo me anche 110 Staccate al limite La forcella non entrava in crisi Freni buoni Tutto quello che volete Ammortizzatore posteriore Comunque un pochettino scalciava Ma perché l'avevo indurito Per non farlo oscillare All'alte velocità Ma appunto Il problema era questo Alle alte velocità La moto Oscillava La 0.9 Non oscilla Quindi io so che magari Ha qualche limite di ciclistica Però se mi viene il pallino Che voglio Andare un po' forte Nei passi di montagna Uscire forte di curva Forte intendo anche 150-160 Non ho l'anteriore Che mi fa così O che addirittura O che proprio Mi bacchetta E adesso vi direte La mia dorsatura Ha un problema? No Perché ho visto altri test ride E tutti dicono Che la moto Ha questo problema Guardate anche il test ride Di freccia verde Della dorsatura 900 Lo dice anche lui Ho fatto controllare L'equilibratura Al cerchio anteriore Ed era ottimo Ho cambiato anche La gomma anteriore E lo faceva lo stesso Ho cercato di fare tutte Ho cercato di trovare Tutte le soluzioni possibili Immaginabili Ma il difetto Che la ruota Anteriore Della dorsatura Oscilla È Certificato Che sia in tutte le moto così Come ho detto Ho trovato il modo Per farglielo fare di meno Ma non ho trovato il modo Per non farglielo fare Quindi Il fatto che la ruota anteriore Ad alte velocità Oscillasse Non mi dava per niente sicurezza Anche se magari aveva forcelle al top Anche se magari Aveva buoni freni Quello che volete voi Ma io con l'MT09 Mi trovo meglio Io Quindi adesso so che voi Mi insulterete nei commenti Ma io sto parlando Di una mia Sensazione di guida So che l'MT09 Non ha una buona cellistica Ma so che per l'utilizzo Che ne faccio io È superiore Insultatemi quanto volete Facendo video su YouTube Si sa che ci sono tante critiche Io adoro le critiche costruttive Mi aiutano a migliorare Gli insulti Magari mi danno un po' fastidio Però Li accetto Perché comunque È normale riceverne Se si fanno video su YouTube Ora Non so se si vede Sullo sfondo Sto passando Più di 200 giga Di file Dell'ultimo viaggio fatto Ve ne ho parlato prima E lo vedrete Nei prossimi Le vedete Nei prossimi video Appunto È un viaggio fatto Con l'MT09 Dove abbiamo fatto Abbastanza di chilometri Abbiamo esplorato Dei luoghi interessanti Quindi vi invito A iscrivervi al canale Se ancora non siete iscritti Per questo video È tutto Quindi commentate Vi aspetto nei commenti Voglio sapere Cosa ne pensate di questo video Se possedete Avete provato una torsatura E confermate questi difetti Se invece Non siete d'accordo Però vi ripeto Sono Le mie esperienze soggettive Di 3 mesi di utilizzo E circa 3000 km E comunque Confermate anche Da altri video Che ho visto E altri articoli Di giornale Di prove Della torsatura Che ho letto Quindi Sto cercando di Stare attento Anche un po' A quello che dico Però mi rendo conto Che il video Va a parlare Un po' male Di questa moto Ovviamente Ha anche dei pregi Cioè Come ha 5 difetti Della torsatura Potete parlare Di 5 pregi Della torsatura Se volete Scrivetemi nei commenti Se volete anche questo video Però Se dovessi Scegliere Di realizzare Soltanto un video E parlare Di 5 difetti Della torsatura O 5 pregi Della torsatura Tra i due Secondo me È più importante Parlare Di 5 difetti Della torsatura Perché secondo me Sono 5 difetti Che vanno Un po' A pregiudicarne L'utilizzo Comunque Consapevole Della valanga Di dislike E di commenti Negativi Che riceverò Vi saluto Lasciate un mi piace Comunque per supportarmi Anche se non siete d'accordo Magari con quello Che vi sto dicendo Però Comunque faccio video Ormai da un anno Sul canale Do spazio A tutti E sarebbe anche bello Sotto nei commenti Parlarne civilmente Magari O dandomi ragione Andandomi contro Farmi domande Se volete acquistare Una torso duro Secondo me Appunto Sarebbe una cosa interessante Poi Attenzione Non sto dicendo Che la torso duro Non è una buona moto Ci sono Moto molto peggio Della torso duro Che comunque ormai Si trova a 3000 3500 euro Usata Come la mia Quindi è una moto Che alla fine Io consiglio anche Per alcuni utilizzi E niente ragazzi Quindi vi ringrazio Se avete visto il video Fino a qua Noi ci vediamo La prossima settimana Con un altro video Ciao Romare nero Romare nè Non sei chiaro E trasparente Wow